Ho qui chi ha vinto, quindi i super campioni della sicurezza sono loro Ma non sento oh oh, quindi io me ne vado Signori, i super vincitori sono e devono salire sul palco Grazie a te l'enza! Ragazzi venite su, venite a prestigiarci Il nodo, si siederanno, il super campione, eccolo qui Salite ragazzi E lo seguiamo anche per un anno, come vi accorrete il giorno Il nostro palco, fino al prossimo anno, in cui lo ridiputerete con l'anno di 2013 Eccolo qua C'è qualche rappresentante, non vedo... C'è qualche rappresentante del Grazia dell'Ella? C'è la signora dove è? Eccolo là! Loro sono i super campioni! E sono il nostro futuro, di un'intelligenza, di energia e di metodità Allora, dall'appuntamento da Barcheria, lo voglio più tutto il cuore E per il prossimo anno! Ringrazio veramente tutti, grazie per questa esperienza Grazie a tutti voi! Vuole dire qualcosa dal sessore Snell? Adesso per la mano, la manchetta